221 positivi su 3848 tamponi sono i numeri dell'ultimo bollettino dell'emergenza coronavirus in Abruzzo da cui deriva un tasso di positività per quanto riguarda i molecolari del 5,74%. La distinzione va fatta perché nel resoconto giornaliero sono entrati anche i tamponi antigenici rapidi frutto degli screening di massa degli ultimi giorni se ne contano 5.399 nelle ultime ore. 10 sono i decessi complessivi di cui tre risalenti ai giorni precedenti ma comunicati solo oggi dalle ASL. Aumentano di 299 i guariti mentre scendono di 88 gli attualmente positivi. Deciso decremento anche dei ricoveri in area medica meno 14 ora a quota 427 ma nel contempo aumenta di una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva per un totale di 41 in tutta la regione. Altre 9.943 persone invece sono in isolamento domiciliare. Se dai dati emerge una situazione complessiva tutto sommato stazionaria e controllabile con un RT poco sopra 1 che fa restare l'Abruzzo ancora in zona arancione almeno fino a fine mese a preoccupare sono le varianti del covid che si stanno manifestando a macchia di leopardo. In base alle stime secondo quanto apprende Lanza i casi potrebbero arrivare addirittura alla metà di quelli complessivamente accertati nell'ultimo periodo. Si registrano anche i primi casi di reinfezione e sono in corso studi sui pazienti per valutare la risposta degli anticorpi e per capire quale variante abbia generato la nuova infezione. In un caso ad esempio un paziente che ha avuto il covid 19 tra settembre ed ottobre dopo essere stato negativo per alcuni mesi di recente risultato nuovamente positivo. Mentre l'assessorato alla sanità invita a fare attenzione a chi chiede compensi in denaro per le vaccinazioni che ricorda sono sempre gratuite e in fase di elaborazione un test in grado di predire in che direzione andrà l'infezione da coronavirus in un paziente e soprattutto se il soggetto rischia di raggiungere la fase acuta che potrebbe rivelarsi fatale. Ci sta lavorando il Center of Advanced Studies and Technology CAST dell'Università d'Annunzio di Chieti con l'attività del laboratorio di genetica molecolare. Il progetto si concentrerà su tre aspetti il sequenziamento del genoma del virus, la ricerca e lo studio degli anticorpi nei pazienti e il test prognostico, attività quest'ultima che dovrebbe partire nelle prossime settimane. È uno studio sui marcatori linfocitari del paziente che permette di predire la cosiddetta tempesta citochinica, reazione immunitaria potenzialmente fatale, cioè la fase acuta della patologia che può rivelarsi mortale.